E' risultato positivo al covid il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. A comunicarlo personalmente sul suo profilo Facebook nella serata di ieri è stato proprio lui, attraverso un post. Cari amici e concittadini, è giusto comunicarvi che sono risultato positivo al covid-19. Martedì notte ho avuto febbre, dolori, brividi di freddo, mal di gola, mal di testa. E' stata una brutta nottata, ieri mattina ho fatto subito il tampone e sono rimasto chiuso in casa. Nei giorni scorsi ho continuato ad avere sintomi simili a quelli dell'influenza stagionale, presenti tuttora. Sono dunque sintomatico, ma come vi dicevo sto fondamentalmente bene. Come vedete il covid esiste come, ecco perché bisogna stare attenti ad ogni minimo comportamento, sottolinea Strianese. Negli ultimi due giorni abbiamo avuto a San Valentino Torio altri 5 casi di contagio e 9 guariti. Numeri alti oggi in Italia, circa 34.000 e in Campania, dove sono circa 3.900 i nuovi casi della giornata di ieri. Record negativo oggi in provincia di Salerno, dove i nuovi casi sono più di 600. Andiamo avanti, senza paura, ma con attenzione e rigore, conclude il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese.